Melania Nuara, sei un'impedoclina, musicoterapeuta, ma sei anche una scrittrice. Hai già pubblicato tre libri, il primo La vera storia inventata di Beethoven, il secondo Mozart e la ricerca della felicità, e adesso da pochi giorni anche Chloe e Chagall, il mangiasogni. Di che cosa tratta? Chloe è una bambina che magicamente entra nei quadri di Chagall e insieme a un misterioso personaggio dei quadri di Chagall che ha perso la memoria e la sua identità attraverseranno tanti quadri per scoprire questo piccolo giallo. Quindi in realtà è un pretesto per insegnare ai bambini nel contesto di una storia fantastica alcune cose sulla pittura di Chagall, che è una pittura meravigliosa, popolata da creature fantastiche, galli giganti, capri giganti, persone che volano, acrobati che vanno ai funerali, è un mondo veramente eccezionale. Sei già al terzo libro, i primi due, di cui il secondo ha anche vinto il premio Henderson per il progetto editoriale, ma perché hai cambiato tema? Dalla musica sei passato alla pittura. Io per mia formazione mi sposto molto tra la musica e la pittura. Vado dove trovo un personaggio che secondo me può essere utile ai bambini conoscere. Per esempio Beethoven è un grande personaggio, un grande esempio di umanità, perché nella sua vigenda, che è la sordità, per un musicista è una grande tragedia, e in realtà questo non gli ha impedito di diventare uno dei più grandi compositori del mondo. Quindi è veramente un personaggio affascinante, così come anche Chagall sa trattare nella sua pittura dei temi a volte anche molto importanti, però in una maniera assolutamente gioiosa, fantastica, piena di colori vivaci. Ma chi è questa bambina? Chloe è una bambina in cui tutti i bambini curiosi e affascinati dalla bellezza si possono ritrovare, quindi certamente c'è anche una parte di me bambina, questo sicuramente. Quindi diciamo che ti sei anche divertita a scrivere questo libro. E perché porta a spasso questo personaggio? Lei non è molto convinta all'inizio di portarla a spasso, è il personaggio che la tira dentro, è disperato perché non si ricorda più chi è e chiede il suo aiuto e lei si lascia convincere.